Di questo parliamo quando parliamo d'amore, di lacrime. Chissà se quelle dell'amore ferito, raccolte tutte insieme, formano un oceano più vasto di quelle scaturite dall'amore corrisposto, come le salite e le discese. Sono cose che nessuno sa. Si tratta di tre righe di un romanzo molto bello di Alessandro D'Avegna, Cose che nessuno sa. E Cose che nessuno sa è un ritornello che torna più volte nel libro. Ed è vero, ci sono molte cose nella vita che nessuno sa. Mi sembra un'ottima prospettiva da cui osservare il Vangelo dell'undicesima domenica del tempo ordinario. Gesù parla di due sproporzioni, di due cose che nessuno sa, a partire dall'immagine del seme. La prima sproporzione è tra le azioni del contadino e il frutto finale. Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il seme ha una forza di vita in sé che non dipende dalle azioni del contadino. I conti non tornano. Il contadino sperimenta una sproporzione tra ciò che fa e il risultato del suo lavoro. La seconda sproporzione è tra la piccolezza del seme e la grandezza della pianta che cresce. Il regno di Dio è come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi, ma cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto. Da un seme piccolissimo viene una pianta non proporzionata, sorprendentemente più grande. Bisogna considerare che il testo del Vangelo di Marco è scritto circa 50 anni dopo i fatti di Gesù. Se ci pensi l'evento di Gesù è chiuso in un pugno di chilometri alla periferia dell'impero. Era chiuso in un pugno di anni nella storia e ha riguardato un pugno di uomini. Eppure i cristiani stavano sperimentando che assieme alle persecuzioni il Vangelo stava portando frutti sorprendenti. Gli uomini che vengono a contatto con il Vangelo cambiano, evolvono, le loro vite diventano più vive. E poi quel messaggio raccontato tra il mar Mediterraneo e il fiume Giordano in un fazzolettino di terra stava viaggiando nel mondo intero. Come essi stessi non si spiegavano questa grandezza se non a partire dalla forza del Vangelo? Solo apparentemente fragile. Questa divina sproporzione si presta per mille applicazioni. Vorrei provare a raccontarne una. Per diversi motivi in questi miei primi anni di sacerdozio mi è capitato di accompagnare diversi cammini di discernimento spirituale o vocazionale. A volte mi è capitato di incontrare storie che sembravano davvero compromesse e conferite inimmaginabili. Eppure sono testimone di persone che hanno aperto al Vangelo e sono fiorite. Nessuna magia, nessuna caduta da cavallo e le ferite restano e come? Però rubando una metafora di De André, nell'etame di alcune vite ho visto sbocciare fiori bellissimi. Come? Loro stessi non lo sanno. A volte mi sembra di vedere una sorta di mito della chiarezza. Sembra che abbiamo bisogno di continue proporzioni. Sono bravo a scuola e quindi devo avere successo nella vita. Ho fatto tutto quello che dovevo come genitore e quindi devo avere dei figli perfetti. Sono stato corretto con questa persona e dobbiamo quindi avere una storia senza intoppi. Oppure sto male e dovrà pur esserci uno psicologo che mi spiega i motivi per cui non sto bene. Ho commesso questo e quell'errore e quindi la mia vita non può che essere un disastro. E ma non è così. Ci sono cose che nessuno sa. E forse le cose più belle della vita non nascono da proporzioni, ma da sproporzioni. E il Vangelo, quando accolto, genera nella nostra vita divine sproporzioni. È vero, a volte la nostra vita è ferita, ombrosa, imbruttita. Ma se apri al Vangelo e succede così, così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno. Il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa.